Sembra essere tornata più tranquilla stamani la situazione al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara dopo gli accessi continui del fine settimana appena trascorso. Situazione però, come è noto, che potrebbe cambiare da un momento all'altro. Il pronto soccorso del Santo Spirito in piena emergenza, scrive sul centro Alessandra di Filippo. Poco personale da una parte e dall'altra accessi continui. Quello appena trascorso è stato un fine settimana nerissimo, con pazienti costretti ad aspettare anche 11-12 ore prima di essere visitati. Sabato sera alle 20.30 all'interno della struttura c'erano 132 persone. Nella notte la situazione è ulteriormente peggiorata. Il primario Alberto Albani è stato costretto a richiamare il personale non in servizio. Il caos c'è stato proprio nella giornata di sabato con il personale che non c'è, spiega Albani, medici e infermieri stremati. Così il primario rivolge un appello ai cittadini se è possibile trovare soluzioni alternative, rivolgersi ai medici di famiglia e al pronto soccorso solo in caso di reale necessità o al massimo rivolgersi ad altri ospedali. Un pronto soccorso nuovo di zecca, ma medici e infermieri sono sempre gli stessi, con i cittadini esasperati dalle lunghe ore d'attesa.